ragazzi siamo tornati in questo nuovo video di gg5lan oggi ho detto siamo perché è tornato lui non è tornato però ho detto siamo perché stai anche tu quindi prima sono tornato vabbè io sono tornato lui non lo so la cansa alle vai a chiacchiare o no di sconti come disconnesso come fare questo questo è un parkour con c'è questo parkour sentito bmx parkour però era meglio diceva parkour bmx invece si chiama bmx parkour questa è la parte impossibile quale? quando mai? è difficile no almeno la faccio direttamente così come? scrivetemi sotto i commenti come ha fatto accadere via mówcie no 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 bueno uno Okay nap no 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 se parkour non mi deve prendere per il curo no eh no 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 25 no 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 se parkour non mi deve prendere per il culo no 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 so noncedo faccio fare l leu l'Iper Slide no come se ricca si dice si dice rapporto no vo surface vabbé allà L'iku e per sleps slide una cosa così del genere non so, nel mio caso l'ho detto bene Dio che... beh il Dio che l'ha voluto oh nooo oh ti mangio di farlo raga io ho finito questa parte oh bacio che ci voleva vero scusa ci voleva aspetta vabbè io qua non salto no io qua non salto qua in realtà ha già morini ignorante oddio oddio ma come li fanno qua oh vai vai aspetta lei ti deve saltare qua te cosa hai fatto quindi oddio 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 che culo no io qua mi fermo no nooo vabbè però in questo parkour si bugga questo parkour veramente si bugga ma stai dai aspetta ok tutto a posto uff che culissimo qua qua questa è la parte più no questa è la seconda parte più rompipalle per me questa questa qua questa qua è la prima questa aspettate la faccio vedere questa qua la faccio vedere bene quella parte là dove sta il gestaccio che devi saltare e devi fare là ecco vedete per poi però io io non so qua si va no oh oddio non sai cosa se prendo le armi tutte abbandonano le armi sono tutte per il pazzo non so se sono chiaro ma la forza del pazzo è sempre il pazzo no, non è male ma la posso fare io, posso ci fare un po' io aspetta, devo prima prendere oh, aspettate le armi sono tutte il pazzo oppure la forza è tutto il pazzo posso fare, posso ci fare un po' io guarda il pazzo, guarda il pazzo guarda il pazzo che guarda male posso ci fare io, aspetta questo lo suicida aspetta per favore, questo è di morire in prima persona io mi trovo ecco sì ti piace questo monzetto? guarda il mio gull guarda il mio gull tira volta per il pazzo bicicletta, pazzo non è se è un attimo lo uccide? no no, lo aspetta lo aspetta lo aspetta lo aspetta lo aspetta lo aspetta qui sta no, non lo aspetta ciao amico tengo zero colpi ah no sbagliato ho fatto il mio fucile da caccia stefan no, però tu non devi cadere eh, non cado devi solo mirare sì, ma però mi devi togliere la prima persona però ti consiglio che non devi cadere eh, ok, non cado, stef non cado ma tu non cadi, vedi? non mai io sono esperto io non lo so da stefan ecco vuoi fare così, vedi? pa 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 spari così, pa pa da stefan va bene però però per caso io ti metto qui dentro senza il pazzo andate no voglio fare così no, non devi sbagliare devi salire, devi fare no, non funziona a me si sbaglia no, ma non puoi andare sì, posso andare solo che il gioco no, posso prendere prende sono delle armi tutte ma questa può prendere armi felice mi fa io mi fa io via stefan però ecco bucate un'altra bucate un'altra dammi però se mi cadi ti faccio tutto sei milano ti sparo ma l'anti sono esperto senza scazza ma io no il pazzo no il pazzo no ti spari così questo eh almeno questo il pazzo ah uno ho visto e sta vicino al parkour quindi deve stare qua no a destra più a destra qua non sei mirati no proviamo e spariamo proviamo sì prendiamo qua allora spriva qua prendiamo le armi oh mamma la mikigan posso fare un pochino con la mikigan mikigan eh posso fare un pochino con la mikigan con la mikigan posso fare un pochino io mi spacco tutto devono bucare ma vuol morire il corno con la mikigan oh le volte tutte come bucate qua oh guarda oh non si rupe ma quello che è un bambino non lo sapete si vede però se sta in adepid non si vede le bici possono essere qua di più là di meno rompiamo rompiamo le bambino ah li balza mannaggia ci veniva a fare così non solo delle bici non tutte ma il rumore è da pazio oh posso prendere un attimo perché mi serve lo metto no adesso no adesso aspetta fai così per passare eh sono il re avete capito sono il re mostri vai suicidi no ma col bazzucco a terra no no andiamo quando me lo voglio uccidere molto valento vabbè giù giù presto no pochissima vita un colpo è già muoio ragazzi noi su uccidiamoci che bomba cos'è ragazzi ragazzi come vogliamo vedere se ci faccio in due minuti a far sto parkour proviamo due minuti ma tutto il tempo due minuti esatto proviamo vabbè proviamo se ci faccio lasciate un like però già lo dovete lasciare con la già un minuto io ci faccio io ci faccio se quello si muove oh no due minuti ancora adesso un minuto adesso un minuto ma non si può fare a piedi amico è drogato quello vuole fare a piedi ah ah che cari vediamo se ci faccio un minuto è buono però almeno proviamoci però almeno vediamo dove posso arrivare in un minuto almeno vediamo dove posso arrivare in un minuto oddio ma siete pure in due io tengo un milione di soldi non mi sento nulla cioè ho fatto 700 mila i soldi e poi ho fatto 300 mila e 12 ah non ci voleva infatti non ci voleva proprio ci voleva sta rottura ma non lo fa uccidi uccidi se non ci se non ci stanno dai prendi noi lo proviamoci oh prendi a bici possa pure lui proviamo insieme a lui a farlo però mi sa impossibile quarantina al secondo ma mi sa già faccio tre tre non so secondo me no 48 secondi però vediamo dove è qui lì è andato pure volte almeno vediamo dove arriva ok speriamoci a farlo eh ok si scelga l'ultimo ma si scelga l'ultimo ma si scelga l'ultimo ma si scelga l'ultimo ma si scelga l'ultimo ahhh 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 vincitore obiettivo 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 fallito investi come faccio a investire qualsiasi rango 185 ciao bella a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video Dio 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 spero che questo video vi sia piaciuto e lasciate un like ci vediamo alla prossima ragazzi ovviamente oppure ragazzi che ne fai ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ciao